pizzeria spurgo il braccio nel tegame da umbertino allora mi amo come si va vado a umbertino bene te come va e fa caldo circolino arciasa di popolo i braccio nei tegame da umbertino allora siamo in piena festa dell'unità stanno a preparare ci deve essere la gente fuori con bigliettina a far la fila vedi o si va a impiattare le patate patate in teglia affogata nell'olio metticelo un tegame prese direttamente a mano perché usare il mestolino quando c'è le mani senti ma un po di maionese che ci sa ammettere a meno più leggera tu la digerisci meglio poi anche la maionese con l'olio le arterie scivola meglio il sangue affluisce meglio ai core abito o ecco il mastro pizzaiolo saeed grande ragazzi senti mi fa un cofaccino a me cofaccino leggerino un po di mozzarella e rizza e la mozzarella la povera catà anche lì sotto l'ho vista mozzarellina di bufala sotto il bancone perché lui mette tutto sotto il banco poi lo riusa a video di scarti gli riusa tutti un po come a lavorare non di fare gnameria o comunque o le pizzerie si sa è la pizza per essere buona deve essere leccia perché se non è pizza leccia se il pizzaiolo non è l'ercio allora la pizza purtroppo non sta di nulla si sa o comunque saeed è in grande forma è la la e saltamo e muriccioli a più e pari diamo ragazzi aspetta dai due la pizza forza titolare controlla vada questo vada questo oh oh com'è l'arte messia portami via oh messia oh messia portami via eh ce l'ha anche io sono dovuto andare al senario a prendere un pezzo mi mancava un pezzo per la macchina mi mancava la guarnizione la guarnizione allora ragazzi in questo locale bisogna andare subito sabato domani sera domani sera domani sera fisso fisso e sia a mangiare osso ma che scherzi lì che è tutto un programma no spettava c'è anche bomboloni tra l'altro sta a vedere e gli tocca ai titolare metti sa fa bomboloni c'è al pieno c'è troppo a fare non gli basti personale poi ci metto io a fare bomboloni di foglio bomboloni di patate a brodo buono buono ce l'ho la panna ce l'hiamo al cioccolato senti me lo fa un bombolone che ce l'hai che moscerini mosche ce l'hai vai tu mi ci metti chiedi lì no no prima d'agosto ci voglio andare almeno poi quest'estate la passo tutta all'ospedale no vabbè comunque perché ci sai c'è da vedere ma comunque io stasera quando bufai festa una scopata a terra c'è da lei sì tanto per le varie sopra sai per le varie sono un po piano piano una passata di quasar diciamo non ne farebbe male forse dove si perde il sapore tipico della pizzeria ristorante i braccio nitegami da umbertino festa è l'unità e circolo al csd buona ragazzi